prima di tutto un grande saluto e un abbraccio a Giancarlo Pedote in navigazione e all'amico Francesco Bruni insomma all'insegna delle grandi sfide sfida all'oceano quella di Giancarlo e all'America's Cup quella di Francesco ecco che cosa significa sentirsi così vicini pur essendo lontani da un'altra parte buongiorno a tutti da Giancarlo Pedote ed è da qualche giorno che mi scambia qualche messaggio con Francesco che mi incoraggia mentre sta facendo la Coppa è una cosa che ho apprezzato tantissimo mi fa molto piacere soprattutto ho una grandissima stima di Checco che è un velista secondo me di un calibre eccezionale per tutte le cose che ha fatto e per la strada che ha scelto e mi fa immensamente piacere di poter scambiare con lui di poter seguire le vicende della Coppa ed è bello ed è bello sentirsi vicini seppur così lontani ciao Giulio ciao Giancarlo mi fa estremamente piacere questa intervista lo sto seguendo praticamente tutti i giorni non esagero un paio di volte al giorno mattina e sera per vedere i suoi progressi sta facendo una regata fantastica sono un grandissimo tifoso di Giancarlo credo che stia facendo qualcosa di veramente fantastico alla sua prima grande globe essere nei primi dieci sta conducendo una regata con molta attenzione senza rischiare troppo e sapendo di portare a casa un grande risultato per cui io spero veramente che continui così e al momento giusto attacchi i primi cinque comunque è già un grande risultato se dovesse finire così ne sono straconvinto due espressioni della vela ad altissimo livello eccellenza italiana sotto il segno della bandiera del tricolore ecco che cosa si prova ma sicuramente difendere il tricolore qui in nuova zelanda è una grande impresa i nozelandesi sappiamo essere fortissimi e comunque la coppa america è veramente sempre una grande avventura non sarà facile ma ce la stiamo mettendo tutta dobbiamo dare tutto è un'occasione unica e dobbiamo veramente lottare fino alla fine ecco due tipi molto diversi di approccio alla vela uno sulle lunghe distanze con la navigazione in solitario estrema giro del mondo senza scalo e un'altra specialità quella diciamo tra le boe forse la più complessa e di altissimo livello che è quella dell'america scap e soprattutto utilizzando delle imbarcazioni che volano con i foil ecco qual è la differenza e perché questa scelta beh diciamo che tra le imbarcazioni del van de globes e le imbarcazioni di coppa la prima eclatante differenza è che le imbarcazioni di coppa hanno un volo integrale poiché hanno hanno dei piani portanti sui timoni pertanto la barca vola perfettamente sull'acqua in modo diciamo integrale come un motte invece le nostre imbarcazioni non hanno dei piani portanti sui timoni ma soltanto un foil al centro dell'imbarcazione questo fa sì che non ha non hanno un volo integrale poi chiaramente le imbarcazioni del van de globes hanno bisogno di un calcolo di struttura con dei margini di sicurezza più importanti poiché devono tenere dei cicli di sollecitazione notevoli senza poter essere riparate in tempi brevi e chiaramente anche un moto ondoso piuttosto importante non regolare nelle imbarcazioni di coppa chiaramente si può essere molto più tirati sulla struttura a guadagno del peso per fare un qualcosa di veramente performante e un po' equiparabile alla formula 1 io per quanto mi riguarda ho scelto questo tipo di navigazione poiché mi piace mi piace lunghe distanze mi sento portato per gli sport individuali anche se vedere la coppa america quelle barche è una cosa che mi fa assolutamente sognare e sarebbe per me un sogno un giorno poter salire su uno di quei bolidi per per provare le loro sensazioni ma io credo che sia una cosa bellissima che un italiano in solitario sta gareggiando per la van de globe infastidendo tutti i veterani di quella classe veramente sta facendo una grande impresa è altrettanto bello l'impresa ancora una volta di luna rossa qui in nuova zelanda credo che sia sono due contesti completamente diversi ma che hanno un comune denominatore che è il mare visto in due modi completamente diversi ma affascinanti entrambi io credo che sia veramente interessante che ormai il foiling si si vede anche qui si vedono i foil anche in oceano e se ne vedono sempre di più il foil stanno piano piano conquistando tutto il mondo e la nautica e credo che sia molto bello che dalla coppa america alle traversate oceaniche si si affronti tutto coi foil ultima domanda sia per giancarlo che per francesco ecco siete tutti tutti e due sia giancarlo che francesco molto lontani dall'italia in due contesti diversi comunque legati al mare alla vela e al vento ecco che che messaggio volete mandare a noi a noi terrestri che messaggio viene dal dal mare so che in questo momento non è semplice a causa dei problemi del covid però vorrei chiedere a tutti di stringere i denti e di credere nel fatto che riusciremo tutti insieme a riuscire da questa spiacevole vicissitudine e comunque vorrei concludere con un forza luna rossa per la coppa america e sono convinto che se in partenza c'è da far qualcosa mure a sinistra dopo quello che ci hai fatto vedere al mondiale che ecco con quella grandissima partenza che hai fatto al mondiale molto mure a sinistra secondo me sicuramente un po di fastidio e nello zealandesi glielo dai